TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, arriverà al binario 3 invece che al binario 4. 9.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 3 invece che al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 3 invece che al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 3 invece che al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in partenza dal binario 3 invece che al binario 4. 10.28, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 4.30, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e diretto a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 4.30, TNV delle ore 8 e 06, PMV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale e direttamente da Bari Centrato a Torino-Portanuova, è in arrivo al binario 3, invece che dal binario 3, invece che dal binario 4.30, TNV delle ore 8 e 06, proveniente da Bari Centrale eangerde eshieldale. Mediobadana, Milano Centrale, Rochiera Milano, Torino Portasusa. L'ambiente smart è in testa al treno. Il treno regionale 23-6-0-9, il ferrovie del Gargano, delle ore 8 e 25, promenie ai pedatici alla città e in arrivo ordinario tra il tronco. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.